e ok amici allora facciamo la seconda canzone di nascorosi c'è chi dice no per fuori e solamente per voi qui c'è chi dice no c'è qualcosa che non va in questo cielo c'è qualcuno che non sa più che ore sono c'è chi dice qua c'è chi dice là io non mi muovo c'è chi dice là c'è chi dice qua io non ci sono quanta gente è convinta che ci sia nell'antilà qualche cosa chissà quanta gente comunque chissà che si accontenterà c'è qualcuno che non sa più cosa è un uomo che qualcuno che non ha rispetto per nessuno c'è chi dice no c'è chi dice no c'è chi dice no c'è chi dice no io non mi muovo quanta gente è convinta che ci sia nell'antilà quissà cosa e chissà quanta gente comunque chi sarà che si accontenterà c'è chi dice no c'è chi dice no c'è chi dice no c'è chi dice no io non ci credo c'è chi dice no c'è chi dice no c'è chi dice no io non mi muovo ciao ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti.